Il Decameron è un'opera strutturalmente complessa perché racchiude e organizza una materia narrativa estremamente variegata e molteplice. Al proemio in cui l'autore presenta l'opera segue l'introduzione alla prima giornata che introduce la cornice narrativa che racchiude le 100 novelle. Nella cornice narrativa l'autore immagina che nei sei giorni della grande pestilenza si incontrino nella venerabile chiesa di Santa Maria Novella in Firenze dieci giovani, sette femmine e tre maschi appartenenti all'aristocrazia o alta borghesia cittadina, alla ricerca di consolazione dall'atroce spettacolo della peste che ha toccato molte delle loro famiglie. Dopo aver a lungo conversato tra loro essi decidono di lasciare la città devastata e di ritirarsi nel contado. Ciò fatto il giorno seguente una delle sette ragazze Pampinea, divenuta regina del gruppo per quel primo giorno, suggerisce di trascorrere il resto della giornata novellando, cioè raccontando storie. Ha così inizio la storia vera e propria che scandisce la struttura narrativa del Decameron. Il Decameron è dunque suddiviso in dieci parti che corrispondono alle dieci giornate che i giovani della dieta brigata dedicano alle narrazioni. A ciascuno dei giovani a turno viene assegnato il compito di presiedere alla riunione, di essere cioè regina o re della giornata e di condurre la narrazione stabilendone il tema. Per esempio la seconda giornata, giovedì, Filomena è la regina, presiede cioè la giornata e stabilisce il tema il potere della fortuna con avventure agli etofine. La struttura del Decameron si articola dunque in modo non dissimile dalla Divina Commedia intorno ad alcuni numeri simbolo. Il dieci ovvero il numero delle giornate che è moltiplicato per il numero delle novelle da cento, dieci è anche il numero complessivo dei narratori ovvero sette ragazze e tre ragazzi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.